Da una fine a un nuovo inizio. Cambio alla guida del Rotary Club Castelli Svevi di Andria. Da Vittorio Massaro a Lilla Bruno che ricoprirà la carica di presidente per tutta la durata del prossimo anno rotariano. Uno scambio di consegne celebrato con una delle cerimonie più attese e sentite, il tradizionale passaggio del martelletto avvenuto ieri sera in una location suggestiva come il resort Coppe di Murgia. Un momento che segna al tempo stesso la fine di un anno associativo con la consegna dei riconoscimenti ai soci che si sono particolarmente distinti per la loro attività rotariana all'inizio di uno nuovo. Un anno che vedrà alla presidenza la dirigente scolastica Lilla Bruno, la seconda donna dopo Francesca Caterino Ieva a ricoprire questa prestigiosa carica. Il Rotary è un'associazione service che è vissuta dalla mia famiglia sin dal 1987, quindi dall'anno di fondazione. Io sono già stata una socia fondatrice rotaractiana e quindi fermamente convinta dell'impegno da assumere questa presidenza. Non è il primo incarico, il primo ruolo, vengo fuori da quello di presidenza della FIDAPA e quindi sicuramente darò e farò del mio meglio affinché questa associazione, questo club possa apportare il contributo alla società secondo impegni non soltanto locali ma anche distrettuali e internazionali. Un passaggio di consegne che coincide anche con il momento dei bilanci dell'ultimo anno associativo ricco di progetti e iniziative, sempre nel segno della beneficenza e della condivisione. Abbiamo messo in campo alcuni progetti importanti, nell'anno in cui per la prima volta una presidente donna ha presieduto il Rotary International abbiamo puntato sulle donne, abbiamo cercato in collaborazione con il centro antiviolenza riscoprirsi di avviare un percorso di formazione professionale che consentisse alle donne che vivono nelle strutture protette di avviarsi ad una professione e quindi di rendersi economicamente indipendenti e abbiamo aderito a un progetto internazionale che ci è stato proposto dal Rotary Club Milano Manzoni Studium per dotare una scuola con oltre 1200 bambini in una regione dell'India in cui l'erogazione della corrente elettrica è veramente problematica dotare questa scuola di pannelli fotovoltaici per garantire un'istruzione di qualità a questi ragazzi e poi sul territorio abbiamo fatto tante iniziative culturali, tante iniziative di conoscenza, di divulgazione e un altro cospicuo contributo alla Rotary Foundation per le altre iniziative, le altre progettualità che in giro per il mondo ma anche sui diversi territori vengono portati avanti dai diversi club e da tutti i distretti, di questo siamo molto contenti e molto orgogliosi.